Un dibattito acceso ma con pochi risultati concreti. Il risultato del Consiglio Comunale Aperto sugli usi civici che si è svolto fino a notte fonda all'Aulapucci. Continuano le polemiche dopo le dimissioni di Rolando La Rosa. Il consigliere del Movimento 5 Stelle pubblica su Facebook una lettera al veleno indirizzatagli dal collega Barbani. Il Comune ha abbandonato il palagrammatico, lo dichiara il consigliere metropolitano di Fratelli d'Italia Volpi, che a riguardo ha presentato un'interrogazione consigliare. Appello dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia al sindaco di Radis Poligrando. Non vogliamo intitolazioni al fascista almirante, scrivono dall'Ampi. Camboni è il re del Mediterraneo. Il windsurfer civile vecchiese ha conquistato la medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo. Evangelisti super è bronzo. Buonasera, dal nostro telegiornale circa quattro ore di dibattito intenso, a volte appassionato, seguito da un affolto pubblico che ha sfidato il caldo e l'orario coincidente con le partite di calcio dei mondiali e che non ha visto però alcun risultato concreto. La sintesi della seduta del Consiglio Comunale Aperto svoltosi ieri sera all'Aula Pucci è interamente dedicata alla controversa vicenda degli usi civici in servizio. Non c'era il tutto esaurito, ma tanta gente, soprattutto cittadini esasperati, che stanno combattendo da mesi, se non da anni, con la controversa vicenda degli usi civici ha seguito ieri sera il Consiglio Comunale Aperto svoltosi sull'argomento all'Aula Pucci. La seduta, iniziata attorno alle 21, è terminata dopo l'una di notte a testimonianza di un dibattito acceso nel quale si sono fronteggiate le diverse posizioni. Tanti gli interventi, sia dei rappresentanti istituzionali, come i consiglieri regionali Gino De Paulis e Marietta Tidei, che hanno partecipato alla seduta, sia dei consiglieri comunali di entrambi gli schieramenti e di quanti stanno seguendo la vicenda per diverse ragioni. Ci riferiamo in particolare all'Università Agraria di Civitavecchia, beneficiaria per effetto di una legge regionale dei fondi che ogni singolo cittadino doveva versare per aver sgravato l'uso civico dell'appartamento già acquistato qualche anno fa o che era in procinto di acquistare. E ci riferiamo alla controparte, ovvero alle decine di cittadini che hanno presentato ricorso contro quel provvedimento regionale e che sono rappresentati sul piano giuridico dall'Avvocato Francesco Lettera, presente ieri sera alla seduta, e su quello politico da Vittorio Petrelli, leader della lista Ripartiamo dai Cittadini. Proprio dall'Avvocato Lettera sono giunte le ultime novità sulla vicenda, ovvero che la seduta in programma mercoledì scorso presso il Commissario regionale agli Ussicivi ci è stata rinviata al prossimo 21 novembre, quando arriverà la sentenza definitiva. Peraltro in questo momento è tutto bloccato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale che, annullando tutte le precedenti deliberazioni in materia, ha di fatto generato ancora più confusione. Tutti gli atti di sanatoria stipulati in questi anni dopo il provvedimento regionale potrebbero essere infatti considerati nulli, mentre è praticamente bloccato l'iter di acquisto di immobili gravati da usi civici e conseguentemente la stessa accensione di mutui per l'acquisto della casa. Insomma, un caos assoluto per il quale il Sindaco Cozzolino, in chiusura di seduta, si è impegnato a sollecitare il Governo affinché sia varato un provvedimento legislativo ad hoc. Il primo cittadino, ammettendo che il Comune è intervenuto in ritardo sulla questione, ha confermato comunque che è schierato al fianco dei cittadini che hanno presentato ricorso. Una seduta interessante, un confronto civile dal quale sono emersi spunti di riflessione e possibili azioni. Il consigliere del Movimento 5 Stelle, Emanuele Larosa, descrive così il Consiglio Comunale Aperto che si è svolto ieri all'Aula Pucci sul tema degli usi civici. Secondo Larosa, già il solo fatto che l'Aula Pucci fosse piena come raramente si era visto negli ultimi anni e con la presenza per lo più di cittadini usualmente poco interessati alla vita politica della città, fa capire quanto il tema si è sentito e quanto condizioni la qualità della vita delle persone. Se veramente si vuole essere dalla parte dei cittadini vanno abbandonati i tatticismi e polemiche politiche da qualsiasi parte provengano. Sono le parole del capogruppo della svolta Massimiliano Grasso il giorno dopo il Consiglio Comunale sugli usi civici, secondo il quale l'unico modo di dare una risposta immediata sia quello che Comune e Agraria seppelliscano lascia di guerra e consentano per il privato gravato di procedere con un gentleman agreement a transazioni e conciliazioni allo stesso prezzo che sarebbe scaturito dall'applicazione degli abbattimenti della legge regionale nella parte dichiarata incostituzionale. Contemporaneamente, spiega Grasso, è necessario attivarsi, visti gli evidenti errori contenuti nell'attuale perimetrazione, per definire attraverso una nuova perizia le aree del territorio di Civita Vecchia effettivamente gravate da usi civici. Cambiamo argomento, non sono state dimissioni proprio serene quelle rassegnate dall'ormai ex consigliere comunale Lorando La Rosa rispetto alle dichiarazioni diplomatiche dei primi giorni. Sta emergendo una verità che conferma le indiscrezioni circolate subito dopo l'addio di La Rosa e dello stesso esponente 5 Stelle a rivelarlo pubblicando su Facebook una lettera al veleno indirizzata gli dalla collega di maggioranza Claudio Barbani. In servizio. Una lettera dura inviata pochi giorni prima delle dimissioni di Lorando La Rosa indirizzata allo stesso consigliere dimissionario. Nella lettera Claudio Barbani accusava La Rosa di resa maestà nei confronti della maggioranza. Sette anni fa scrive abbiamo cominciato insieme quest'avventura e mai avrei immaginato che finisse in questo modo. Con il tuo voto contrario al bilancio sei andato contro il sindaco, la giunta e tutti i consiglieri ma soprattutto sei andato contro le regole e i principi del Movimento 5 Stelle secondo i quali si discute, si litiga quanto vuoi ma alla fine la linea la decide la maggioranza. Punto e basta. Barbani incalza La Rosa spiegando di essersi sentito personalmente tradito. Infine il gesto estremo minacciato quello di non sedersi accanto a lui in consiglio. Mi dispiace moltissimo scrive Barbani e ti dico con tutta sincerità che avrò seria difficoltà a sedermi vicino a te nei prossimi incontri senza che tu chiarisca la tua posizione all'interno della maggioranza. Un'email che stride terribilmente con il post dello stesso Barbani scritto subito dopo le dimissioni di La Rosa, probabilmente vero obiettivo, della maggioranza pentastellata. Abbiamo cominciato insieme questa avventura sette anni fa, scrive Barbani su Facebook dopo le dimissioni di La Rosa ed è soprattutto merito tuo se siamo arrivati dove siamo ora. Grazie di cuore, Rolando La Rosa. La lettera di Barbani è stata pubblicata integralmente dallo stesso Rolando La Rosa sul suo profilo Facebook. 18 posti di lavoro tagliati in due giorni. La denuncia arriva dall'USB Lazio e riguarda alcuni servizi svolti all'interno della centrale di Torre Valdalica Nord. L'organizzazione sindacale attacca non solo Enel ma anche CGL e Cisle Will che a suo giudizio non hanno mosso un dito per salvare i posti di lavoro. Secondo USB quella che sarà definita ristrutturazione è in realtà un ridimensionamento di organico vero e proprio voluto da Enel e accettato supinamente dai sindacati di categoria. Un taglio di 18 posizioni lavorative che va a colpire soprattutto il settore destinato al controllo sulla sicurezza dell'impianto e sull'impatto ambientale. Dopo il crollo del tetto avvenuto nel marzo scorso il comune di Civitavecchia ha letteralmente abbandonato al proprio destino il palagrammatico e quanto dichiara Andrea Volpi, consigliere metropolitano di Fratelli d'Italia che denuncia con tanto di foto il degrado in cui è piombata la struttura occupata da alcuni senza tetto. Volpi ha presentato un'interrogazione consigliare per chiedere l'intervento del sindaco Raggi e del prefetto. No all'intitolazione di una via Giorgio Almirante e l'appello dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia al sindaco di Ladispo di Alessandro Grando all'attacco di Grando, anche tutti i partiti di centro-sinistra dal PD a Onda Popolare passando per l'EU. La Dispo di città storicamente multietnica non ha bisogno di una targa alla memoria di chi fece professione razziale senza peraltro mai smentire nel corso della sua carriera politica. Lo sostiene il direttivo dell'Ampila di Spolana che critica il sindaco Grando, il quale ha manifestato l'intenzione di voler intitolare un luogo pubblico a Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento Sociale Italiano di cui è stato uno dei fondatori, insieme con altri reduci della Repubblica Sociale Italiana conosciuta come Repubblica di Salò. L'Ampi ricorda come Almirante fosse dichiaratamente razzista. Almirante è stato il capo di un partito che nella storia repubblicana post-bellica affermano si è sempre opposto all'avanzare dei diritti civili quali il divorzio, l'aborto, il nuovo diritto di famiglia, i movimenti femminili per l'emancipazione e che in piena stagione degli anni di piombo e dello stragismo nero si faceva ritrarre accanto agli squadristi picchiatori armati di Spranghe. Diritti che oggi sono appannaggio di tutti. L'Ampi esprime tutto il suo dissenso ed invita il sindaco Grando, che dovrebbe essere figura istituzionale rappresentante di tutti i cittadini, anche di chi non lo ha eletto, di lasciare simili iniziative ai rappresentanti di partito e di fare come la sindaca di Roma Raggi che ha rinunciato ad intitolare una piazza della capitale ad Almirante. Le strade di Ladispoli concludono, più che di intitolazioni, hanno bisogno di ripavimentazioni. Sabato 30 giugno sarà una giornata storica per i matrimoni civili celebrati alla Dispoli, a quanto dichiara il sindaco Alessandro Grando, il quale annuncia che per la prima volta in assoluto il rito si svolgerà non nella sede municipale di Piazza Falcone, ma in una location esterna, il suggestivo anfiteatro romano della Villa di Pompeo a Marina di San Nicola. Il primo cittadino invita le attività ricettive a farsi avanti per ospitare eventi del genere e si augura una partecipazione massiccia. Cerimonia questa mattina alla Caserma Piave nella sede del VII Regimento Difesa NBC Cremona è stato celebrato il 95esimo anniversario della costituzione delle prime unità NBC dell'esercito istituite ufficialmente il 1 luglio del 1923. Vediamo il servizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 11 nella provincia di Viterbo e 6 a Civitavecchia e Santa Marinella sono i posti resi disponibili dal bando che dà la possibilità ai giovani di attivarsi in progetti di servizio civile per l'attuazione del programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani di garanzia giovani. Possono partecipare i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni, non occupati e non inseriti per corsi di istruzione e formazione. La durata del servizio è di 12 mesi con un compenso mensile di 433 euro. Le domande devono pervenire entro e non oltre le 14 del 20 luglio. per scegliere il progetto i giovani possono andare sul sito www.volontariato.lazio.it Tolfa propone un altro weekend al fresco della collina tra sapori e cultura. Domani e domenica il programma estivo prevede l'evento Rocca in Cantina curato dal rione Rocca nella zona medievale, quella che appunto da piazza Matteotti porta verso i ruderi del castello, simbolo di Tolfa via Costa Alta. L'associazione propone un programma con cantine aperte, arte e artigianato, musica e soprattutto la possibilità di degustare la gastronomia tipica tolfetana. Domenica il Polo Culturale propone alle 10 e 30 una visita guidata gratuita del Museo Civico curata dal direttore Giordano Iacomelli, un modo per conoscere e riscoprire la storia del territorio dagli etruschi ai giorni nostri. E domani dalle 16, dalle 18 e 30, scusate, presso il forte Michelangelo si terrà la mostra fotografica It's All About Love di Stefano Lotumolo. La mostra itinerante in tutta Italia si troverà a Civitavecchia fino all'8 di luglio. Bene, era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale, ma restate con noi perché tra poco ci sono le notizie di Sportime 24. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Di serata. Avifer realizza porte e cancelli, finestre infissi in alluminio e PVC. Avifer di Vigliante, Elvio e Luca è in via Nenna 9A in zona industriale. Buonasera e ben trovati ad una nuova edizione di Sportime 24. Apriamo parlando di windsurf con il trionfo Civitavecchese a Tarragona nei giochi del Mediterraneo. Nella classe RSX maschile infatti l'oro è andato a Mattia Gamboni, mentre l'atleta della Lega Navale di Civitavecchia, Matteo Evangelisti, ha conquistato un ottimo bronzo. Quest'ultimo si è tolto anche la soddisfazione di vincere la regata finale della manifestazione proprio davanti a Gamboni. Buon quinto posto tra le ragazze per Veronica Fanciulli, che paga qualche passaggio a vuoto, ma che soprattutto nelle ultime quattro regate, in cui ha ottenuto un primo, due secondi e un quarto posto, ha dimostrato di poter dire la sua per le primissime posizioni. Parliamo adesso di ginnastica artistica. La SGIN continua a godersi i suoi giorni di gloria dopo l'argento di Marco Lodaddio ai giochi del Mediterraneo. La società Civitavecchese è sempre più protagonista della nazionale italiana, visto che oltre a Lodaddio anche Russia ha una presenza fissa nelle convocazioni azzurre. Grande emozione anche per il tecnico Gigi Rocchini, che ha seguito i due ragazzi nella spedizione di Tarragona e che sentiamo in questa intervista. Gigi Rocchini ha ancora ragione di grande esultanza, di grande felicità qui al Giovedeco Ferrano Medici per la SGIN e per la conquista dell'argento di Marco Lodaddio ai giochi del Mediterraneo per i risultati di Andrarusso. Che emozione è stata per il tecnico avere due suoi atleti in nazionale? La soddisfazione è stata enorme perché è il nostro lavoro, quindi averne ben due in una competizione così importante è sicuramente molto importante anche per quello che riguarda la fatica che questi ragazzi fanno costantemente nel lavoro che fanno tutti i giorni. Come è stato vedere Marco sul podio? Dico una bestialità, è stato normale perché Marco è l'espressione del meglio che c'è oggi in giro al mondo. Oggi è una conferma, non solo una conferma per quello che riguarda dei valori suoi relativi, ma in assoluto è diventato una conferma nelle diverse occasioni in cui si è potuto presentare. Un argento molto importante, a parte c'è stato anche Andrarusso, visto qui in palestra tre finali per lui. E quello è diventato la conferma di un lavoro che attraverso i più piccoli che vedete alle mie spalle rappresentano una continuità. Il mio lavoro è quello di creare ginnasti e attraverso il lavoro che sono riuscito a fare in questi quattro anni a Civitavecchia, sono riuscito a riproporre un'organizzazione di lavoro in cui Andrea è la rappresentanza massima, perché Andrea è un ginnasta che si è presentato all'ultimo, ma ha dato segni molto importanti anche per la squadra nazionale. I giorni scorsi abbiamo intervistato il presidente Milanda e ha dichiarato che va bene il riuscito, ma dietro abbiamo anche altri ragazzi che forse sono ancora più forti, l'ha detto, forse un po' tra il sale e il faceto, però... Sì, arrivare a quello che stanno facendo oggi Marco e Andrea è opportunità data a tutti, ma solo pochi riescono a raggiungere quel tipo di risultato. E questo è frutto soprattutto dell'impegno di questi ragazzi che nel tempo si ritrovano in palestra e hanno un rapporto con lo sport che praticano sempre più stretto, sempre più convincente. Parliamo adesso di calcio, la CPC perde un pezzo molto importante in vista del prossimo campionato di promozione. Il difensore Luca Brunetti è infatti ad un passo dall'accordo con la Corneto Tarquinia. La società rossa è comunque già a lavoro per trovare un sostituto all'altezza da affiancare a Riccardo Serpieri che invece dovrebbe rimanere alla CPC. I nomi più ricorrenti sono quelli di Roberto Gimmelli e Thomas Funari. Parliamo adesso di automobilismo. Quarto appuntamento per Nicolas Ricitano all'Euro NASCAR. Nella fine settimana il pilota della Razers Motorsport sarà impegnato nella tappa francese di Tour. Sarà una gara speciale perché si correrà in un circuito ovale, così come avviene per la NASCAR americana. Le due manche sono fissate per le 18.20 di domani e per le 10.55 di domenica. In classifica la Cività Vecchiese è secondo tra i ruchi e sesto nella generale della categoria Elite 2. Chiudiamo parlando di hockey. I nuovi snipers techno-alt potrebbero parlare svedese. Al Palamercuri due giocatori scandinavi si stanno allenando con la squadra nera-azzurra. Al momento sono in prova ma potrebbero rinforzare il quintetto di Martina Gavazzi nella nuova avventura in Serie A. Stiamo parlando dell'esterno sinistro Jakob Tenemir e del centrale esterno Viktor Lindel. I due sono entrambi classe 1995 e sono cresciuti nella squadra della loro città, Vasservix. Lindel ha fatto parte della nazionale Under-18 svedese ed ha avuto già esperienze in Norvegia e negli Stati Uniti. Bene, era questa l'ultima notizia di Sportime 24. Siamo ai saluti. Vi ricordo però che adesso ci saranno le informazioni delle meteo. Grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di serata a tutti.